Intro Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePad17 e oggi siamo tornati immediatamente su Batman Arkham Asylum Ok, l'ultima volta ci eravamo lasciati qua Stavamo per andare in questa stanza dove là sopra si trova Harley Quinn Non so cosa succederà Direi di proseguire nella nostra avventura Nello scorso episodio è stata liberata anche Poison Ivy Quindi un altro nemico poi da sconfiggere Dobbiamo riuscire a catturarla e rimetterla nella sua cella Comunque a quello ci penseremo più tardi Andiamo avanti, vediamo dove andiamo a finire Ok, eccoci qua Ciao Joker E ci stavano aspettando ragazzi Come immaginavo Prendetelo da dove? Non mi piace ragazzi la situazione che... Allora intanto facciamo fuori questi quattro qua Aia Ok Attenzione, attenzione, attenzione Lo sa... Dai dai Batman, dai rampicati Caspita Eh lo sapevo ragazzi che... Attaccavano il pavimento elettrificato Ok, facciamoli fuori Prima che mi rompano le scatole Cambiamo, cambiamo Spostati, spostati, spostati Allora io vado di qua Voi ragazzi state pure lì Evitato uno Dai rampicati Batman, rampicati Dai su, no 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 Ok, torniamo in quello principale Ragazzi giusti i bastoni Giù Perfetto Gli abbiamo mandati tutti i K.O. Con cinque colpi Ne arrivano altri che... Palle ragazzi Loro si stanno arrampicando di là Perfetto Intanto mandiamo K.O. Questo qua Mentre aspettiamo che arrivino gli altri Ok, il pavimento elettrificato si è spento Adesso vado a sconfiggerli immediatamente Te metti giù il bastone Che sennò te lo do in testa Ma li ho sconfitti o no? Quanti ce n'è ancora? Aia Dovrei averli sconfitti tutti ragazzi Mamma mia quanti ce n'è Guardate che roba Vieni, vieni Ti sto aspettando Vieni, vieni Cambio di programma piccola Ce l'ho messa tutta Eh, mi dispiace Sono troppo forte Mi dispiace, niente premia che arriva secondo Temo che tu sia esclusa dalla lista degli invitati Sarai più fortunata la prossima volta Già, concordo Joker Vieni, vieni Harley, vieni Ti sto aspettando Ma dove vai? Boh, bloccata Ciao Mio, grazie Se me lo dici te facciamo prima Guardate che roba Cerca di fregarci Ok Impronte digitali prese Prego Harley, la tua nuova casa Ciao Grazie mille per l'informazione Sì, sì Aspetta e spera Aspetta e spera Perfetto Allora, finalmente l'abbiamo catturata Sotturata Non è giusto Non è giusto Oracle, qui ho finito Sì, sì che è giusto È giusto Aspetta che vado a vedere di qua Adesso puoi cercare il laboratorio segreto nei giardini Sì Harley è stata praticamente dappertutto Meglio impostare lo scanner In modo che mostri solo le impronte con tracce di clorofilla Attento Bestiale la tecnologia di Batman Bestiale Vabbè, sarà meglio andare a vedere Ok Distruggi l'impianto di produzione del Titan nei giardini botanici Raggiungi la pista delle impronte digitali di Harley Quinn nei giardini botanici Perfetto Intanto mi faccio scannerizzare qua Ah no, ma da qua è qua da dove siamo arrivati Quindi non mi interessa Fatemi vedere perché ho visto Un'altra cosa qua Vediamo Aspettate, vado un attimo su qua Qui è dove si trovava Harley Quinn prima Aspettate che utilizzo un attimo Il sequenziatore Perché devo aprire un attimo la cella dove c'era il Il trofeo dell'enigmista Dai apri, apri, apri Perfetto Ok, abbiamo aperto la porta Perfetto Ok, il trofeo preso Caspita si è rimasti chiusi dentro Fatemi vedere Ah beh, c'è un'uscita di qua Easy easy ragazzi Easy easy Ok Perfetto C'è anche un simbolo di Arkham qua Una cronaca di Arkham Che abbiamo raccolto Adesso Usciamo di qua No Questo Vai Ok, perfetto Eh, sapessi Andiamo, andiamo, andiamo Ragazzi Andiamo Ok Ah no Dove caspita Ah, devo uscire dalla villa Ok, perfetto Allora, ci vediamo All'uscita Dovrebbe essere di qua Madonna ragazzi Mi sono spaventato Dai, lancialo Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo un tizio lì dentro Ragazzi Non me l'aspettavo proprio Vabbè, non importa Non me l'aspettavo proprio Mi ha Mi ha spaventato Ce n'è un altro qua Mi fregate una volta Non due Immaginavo che qualcuno si Fosse nascosto lì dentro Qua c'è ancora qualcosa No Ok Usciamo nei giardini Ne arriva uno Stavolta l'ho visto Stavolta l'ho visto Mi prendo i tre Batarang Facciamo fuori questi due qua E vado nella serra Per interrompere La produzione del Titan Welcome to the Botanical Gardens Perfetto Entriamo qua ragazzi Devo cercare la pista di Harley Quinn Non posso sprecare tempo A cercare l'impianto di produzione di Titan Ok, ne vedo due là davanti Andiamo giù piano, 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 piano Prendiamo il nastro dei colloqui Che riguarda Poison Ivy Mamma mia Poison Ivy Peccato che sia cattiva Perché se no è un personaggio spettacolare Attenzione Interveniamo prima che utilizzino le armi Ok Un po' rischiata questa qua Perché comunque ci hanno visti E abbiamo fatto un attacco frontale Siamo comunque riusciti a stenderli Perfetto E non posso passare di qua Spittano tutti delle armi Tutti le armi qua Dobbiamo stare super attenti Perfetto Mi arrampico subito là Ok Fatemi vedere Uno Due Due Tre Quattro Eh, non è facile Vado a prendere questo qua Qua sotto Ok No Ah, no, 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 no Ok, abbattiamolo Intanto me la do subito a gambe ragazzi L'hanno visto Allora facciamo un giro dei gargoyle Così Non ci vedono Perfetto Ne sono rimasti Due No, tre addirittura Dai, dai Mamma mia Guardate quanto avevamo di vita Guardate che roba Non avevamo praticamente più vita ragazzi C'è andata benissimo Mamma mia Che pelo Ci dicono che abbiamo un potenziamento Quindi Guardiamo subito che cosa possiamo potenziarci Eh, direi l'armatura Mettiamo un V4 Così siamo più resistenti ai colpi D'arma da fuoco Ma soprattutto anche i nemici in generale Perfetto Dove dobbiamo andare adesso? Fatemi vedere un attimo Magari di qua Io provo ad andare di qua ragazzi Ok Allora facciamo fuori Quell'affare Là davanti Ok L'abbiamo distrutta Qui sempre dritti Salve ragazzi Ok Scusate se vi interrompo Attenzione a questo qua con il coltello Ce ne sono due ragazzi con il coltello Ah, ce ne è anche uno con la La fiaccola Questo qua lo mando subito K.O. Così anche uno in meno Ti mando K.O. Così E ciao Così c'è già un problema in meno Adesso abbiamo due criminali normali Da mandare K.O. Ah, ce ne è ancora uno Cosa fa lei con questa cassa in mano? Non resistete neanche un minuto contro Batman E buonanotte Ok Vediamo chi è che avevano preso in ostaggio Ah Vediamo chi è No non è Pensavo fosse Cash di nuovo ragazzi Stai bene Sì Sì tranquillo Che cosa stavano facendo qui dentro? Quelli che non mi stavano pestando Sono andati da quella parte Ad armeggiare con le centraline elettriche Non ho capito bene Ok Grazie dell'informazione Ho visto qualcosa qua sopra Un altro nastro Che riguarda sempre Poisonivi Hanno messo questa centralina Sarà più difficile di prima Ma è un rischio che devo correre Vediamo se posso utilizzare Il sequenziatore Sì Usiamolo Devo riuscire a disattivare la bomba Perfetto Ah no Ok Ok Aspettate che l'ho visto eh E qua Voilà Perfetto Abbiamo disattivato anche la bomba di Joker Ok Un problema in meno Qua c'è qualcos'altro Aspettate che parlo un attimo ancora con Todd I uomini di Joker potrebbero prendere il generatore Ok bravo Fai buona guardia mi raccomando Perfetto Continuiamo C'è un leggero lag Devi mettere fine a tutto questo Prima che sia troppo Ah guardalo Ciao Joker Wow Dai Batman Perfetto Una grata in meno Che ci rompe le scatole Andiamo giù Ok rompiamo la griglia Ficchiamoci dentro Perfetto Ah guardate abbiamo un altro potenziamento Prima di scendere vediamo cosa possiamo Aggiungere Qua Allora Amplificatore di campo criptografico Aumenta la potenza del No Allora vediamo Cos'è questo qua Permette a Batman di abbassarsi e afferrare i nemici che passano sotto i gargoyle Lasciandoli appesi Perfetto Usiamo questo qua E scendiamo Ah guardate Siamo nelle Nelle fondamenta Tipo Di qua non si va Però non si va da nessuna parte qua Fatemi Ah ok aspettate E infatti Mi è venuto in mente che poteva esserci magari una parete da abbattere Perché anche perché se no non ci sono altre strade Ok ottimo Scendiamo qua Apriamo questa porta qua Vediamo dove siamo finiti Andiamo di qua Boh io proseguo per questa strada di qua Ok arrampicati Perfetto Eeeh Ah ok di qua Perché se no non c'è Altra strada Arrampichiamoci qua Basta vi prego Vi ho detto quello che volevate sapere Avete preso tutti Per favore Adesso potete lasciarmi andare Lasciatelo andare Mamma mia che scarsi ragazzi Che scarsi O sono io troppo forte Mi sa Perfetto K.O. Abbiamo salvato un altro tizio Venga venga Come sta Tutto bene Stai bene Ti sembra che stia bene Volevano uccidermi Eravamo nascosti nella voliera E sono arrivati con Joker Sparavano ovunque Alla fine ci hanno caricati Nelle gambe Abbiamo un luogo Giunto alla mappa Qua sotto c'è qualcosa No Eeeh Qua in giro Vediamo di qua ragazzi Un attimo Se c'è qualcosa O devo andare Da qualche parte Di qua Oh Ah no E' l'entrata Che ha fatto crollare Joker Niente Quindi Dall'altra parte Ho visto che c'è già una porta Apriamo la porta Il dottore che si prendeva Si era preso in cura Poisonivi E' sparito Per favore Eccoli Li abbiamo trovati No 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 Senti Sta per arrivare Batman Se lo vedi Spedisce all'inferno Quelle lagne dei dottori L'inferno è quello sotto Giusto? Si Almeno questo dovresti saperlo Joker Ok Dobbiamo stare attenti Stendi il capo degli scagnozzi Senza farti individuare Ok Vediamo ragazzi Ok Quello lì tanto si è già rialzato No mi ha beccato Ok niente Devo rifare Perché mi ha beccato Ok ragazzi Perfetto Eccoci tornati Sto aprendo La griglia qua Che avevo visto prima Dobbiamo stare attenti Perché Già solo se ne mettiamo KO1 E' come se avessimo fatto Scattare l'allarme Praticamente Perché questi collarini qua Sono micidiali Perfetto Siamo qua sopra Andiamo dentro la conduttura qua Batman piegala Piegala e spostala Non calciarla via Perché se ci beccano E' finita Ok Ok E fin qua Ci siamo Poi Vediamo Quante guardie ci sono Ce n'è una Due Tre E quattro La quarta è qua sotto Come caspita faccio Come caspita faccio Eh Ah guardate c'è un passaggio qua sopra Perfetto Grandissimo Batman Non l'avevo mica neanche notato Ragazzi No 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 Oh che pelo Che pelo ragazzi Care Arrampicati Batman Grandissimo Stai giù Stai giù Stai giù Apri questa griglia qua Ottimo lavoro Bravo Non far casino Delicatamente Ok Perfetto Et voilà Buonanotte KO Obiettivo Completato Facciamo fuori Queste dentiere qua Mamma mia ragazzi Non è stato facile Oh riusciamo a prenderla Ok Adesso dove caspita Devo andare Boh Scusate un attimo Perché non ho mica capito Dove devo andare Adesso Oh Ok Probabilmente Adesso ci daranno La caccia Bello Bello Ho fatto tutto un casino Non mi ha neanche visto Ok Facciamo fuori questo qua Silenziosamente Perfetto Adesso vado a prendere Questo qua Ok Due E tre Voilà Buonanotte Perfetto Li abbiamo stesi tutti e tre Anche quelli rimasti Le tracce ci portano di qua Gli infermieri Sono stati salvati Perfetto Facciamoli scendere Ok Eccoli qua Si Un infermiere Joker Joker ha previsto La sorveglianza All'ingresso Dell'impianto Fatemi vedere Dovrò seguire La pista Di Parlare Con loro Almeno grazie Ah ok Pensavo di svenire Non sopporto L'altezza Mi spiace Pensavo di lavorare Per la dottoressa Young Non immaginavo Che ci fosse Di mezzo Joker Fin quando non ha fatto Irruzione In laboratorio Tranquillo Ti capisco Wow State tranquilli Ci penso io Ok Andiamo da questa parte Mi sa che l'ho già vista Ragazzi La porta Dovrebbe essere Qua Si infatti Eccola qua Ah non è una porta Anzi Più che altro C'è da Sistemare La bomba Di Joker Uno Due L'ultimo È un po' più difficile Perfetto Anche questa bomba È andata Eccola Eccola la porta Ragazzi Quindi Alla fine Comunque Non ero Tanto distante Perfetto Vediamo Cosa c'è Lì dietro Salve Ciao Joker Guarda Guarda Che ha scoperto Il nostro Laboratorio Segreto Visto che Siete Qui Vi faccio Vedere Quello Che ho Preparato E cosa Avresti Preparato Che cos'è Oh 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 Ragazzi Eh sono Che schifo Ragazzi Che schifo E ce n'è due Non uno Mamma mia Che schifo Ok E vai Oh Accidenti Non mi ero accorto Che era partito Ok Evitiamolo Ok via Perfetto Ce n'è due Da stompire Dai che si Non capiscono Dove vanno Magari si prendono Botte fra di loro Ok L'ho stordito Perfetto Dai 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 che si prendono Pugni fra di loro Dai che Riusciamo a Utilizzarli Ah Questo qua Mi ha preso in pieno Ragazzi Diamo Un po' di botte Perfetto Dov'è l'altro Dai Dagli una botta Dagli ne due Dagli ne tre Dagli ne quattro Tutte quelle che hai Dai Utilizziamolo Perfetto Via 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 Partono Via Ah Anche questo qua Mi ha preso in pieno Niente Non riesco a evitarli Ok uno è andato Forse Sì Perfetto Mamma mia Che colpo Ok uno è andato L'altro è qua Stiamo lì distante Dai lancia lì Boomerang No Non glielo ho lanciato Dove va? No Non si lanciano le guardie Così Avrò un po' di mal di testa Quella guardia Vabbè non importa Mi ha preso in pieno Però siamo riusciti a scoprirlo Stanno esplodendo Un po' di gas Dai che va K.O Dai che va K.O Mamma mia Che colpo Perfetto Tutti e due K.O Ottima cosa L'impianto di produzione di Titan Ma Joker è scappato Con materiale sufficiente Per causare problemi a tutti E tu che pensavi Che non potesse andare peggio Hanno usato un ibrido Di Venom vegetale Per creare la variante Del Titan La soluzione sta nella pianta E c'è solo una persona Ad Arkham Che può darmi una mano Cosa ti fa pensare Che Ivy sia disposta Ad aiutarti Se le sue piante Sono in pericolo Mi starà ad ascoltare Ho un campione Della sua firma Alferormone Deve essere nei giardini La troverò Perfetto Quindi La prossima volta Dovremmo andare a cercare Poison Ivy O Poison Ivy Per i nostri amici italiani Ok ragazzi Direi che l'episodio di oggi Può terminare qua E' stata E' stato veramente Un episodio Fantastico Abbiamo sconfitto Harley Quinn Adesso andremo a cercare Poison Ivy E abbiamo sconfitto Due giganti Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un mi piace Commentate Condividete E in descrizione Potete trovare La mia pagina di Facebook Ragazzi ci vediamo Nel prossimo episodio Sempre qui Su Batman Arkham Asylum Alla prossima ragazzi